Dedicare del tempo agli altri potrebbe ridurre ansia e depressione, aumentare il benessere e la soddisfazione personale. Insomma, fare del volontariato apporta una lunga serie di benefici per sé e per gli altri. Su questa teoria si è basato lo studio condotto da Suzanne Richards dell'Università di Exeter in Inghilterra che ha rielaborato i dati di 40 ricerche precedenti sull'argomento. Stando ai risultati, i vantaggi per la salute mentale sarebbero evidenti. Un miglior benessere generale, minor rischio di ansia e depressione e una maggiore soddisfazione personale. Alcuni dati, spiega Suzanne Richards, seguirebbero addirittura una riduzione della mortalità del 20%. Si sottolinea inoltre che aiutare gli altri è appagante per la psiche e questo attraverso il sistema neuroimmuno-endocrino che mette in comunicazione cervello, sistema immunitario e attività metaboliche avrebbe ripercussioni benefiche su tutto l'organismo. In Europa le attività di volontariato riguardano circa il 22% degli adulti, negli Stati Uniti sale al 27% e in Australia addirittura al 36% della popolazione.